Questa mattina abbiamo il piacere di ospitare, anche se solo virtualmente, nei nostri studi un amico, lo definirei così, di Padre Pio TV, un Vescovo di una diocesi a noi molto vicina, ma che in Italia sta facendo parlare molto per la sua ultima fatica editoriale, che questa mattina presenteremo seppur brevemente. Il nostro ospite è Monsignor Gianni Checchinato, Vescovo di Sansevero. Buongiorno Don Gianni, bentrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Grazie, grazie per essere con noi. Omelia per gli invisibili, dovremmo vedere la copertina grazie alla nostra regia, la storia di un Vescovo dove cresce la quarta mafia. Questa è la tua ultima fatica editoriale, Don Gianni, che presenti oggi in anteprima, oggi sabato 29 ottobre, in anteprima nazionale a Sansevero e che parla di una piaga che purtroppo fa parlare della nostra terra in negativo, nonostante i tanti aspetti positivi che contraddistinguono il nostro territorio. Sì, certamente parlo di questo aspetto della nostra terra perché è un aspetto presente e dunque va accolto, va vissuto in maniera responsabile, adulta. Anche se il libro non parla solo di questo, c'è appunto la storia di un Vescovo e quindi ci sono i miei primi passi qui a Sansevero e poi tante finestre su questo nostro mondo, su questa nostra terra così bella e anche così faticosa qualche volta. È una terra che ha tanti aspetti positivi come abbiamo sottolineato Don Gianni perché la nostra terra è terra di sole, è terra di gente laboriosa, è terra di gente che davvero si dà da fare per portare il pane nella propria casa, per innalzare anche il livello di qualità di vita. Però purtroppo ci sono quegli elementi disturbanti, come sottolinei tu nel tuo libro, che in qualche maniera vanno ad inficiare questo tessuto sociale che già di per sé è provato in Capitanata. Sì, è così, è che noi dobbiamo fare sempre attenzione, cioè se fuori c'è freddo, penso a quelle belle giornatine invernali con il freddo che arriva dai Balcani, che ci raggiunge, se noi teniamo aperta la finestra poco, non ce ne rendiamo conto, ma quel filo di aria raffredda tutta la casa. Allora, alla stessa maniera, analogamente, questo nostro territorio che ha tante possibilità, che ha tante ricchezze, ha permesso ad una mentalità strisciante di entrare e di rovinare in qualche maniera tante cose belle. Allora, abbiamo bisogno di rivedere quella mentalità, di fare dei passi corrispondenti per crescere come cittadini e soprattutto per crescere insieme. Come ci diceva Papa Francesco in un 27 marzo 2020, terribile, lui era solo su Piazza San Pietro e ha detto questa frase che per me è rimasta un'icona a cui ci dobbiamo sempre rivolgere. Siamo tutti sulla stessa barca e quindi abbiamo bisogno di prenderci cura gli uni degli alati. Sono espressioni molto belle, giustamente noi le ricordiamo perché quel 27 marzo per certi versi è stata una sorta di spartiacque anche per quanto riguarda il nostro essere ecocittadini e non solo. Voglio prendere una delle espressioni più significative di questo libro. Questa nostra terra è una terra che soffre, bisogna aver rispetto della sofferenza ma anche combattere la rassegnazione e la paura che fino a oggi sono la sola risposta che abbiamo dato a questo dolore. Io ti chiederei Don Gianni in pochi istanti di sintetizzarci quali possono essere gli antidoti o gli anticorpi che in qualche maniera ci aiutano a combattere questa rassegnazione. Penso che dobbiamo fare così come abbiamo fatto per il covid, nel senso che abbiamo atteso il vaccino, abbiamo fatto il vaccino e poi ci hanno detto guarda che forse è bene rifarne un altro, fare un richiamo e poi un terzo richiamo e adesso un quarto richiamo. Penso che la risposta non è legata ad una bacchetta magica che risolve tutto subito e come lo diciamo noi, ma è un processo di ripensamento del nostro essere tutti responsabili, come dicevo prima, del nostro territorio. Quindi di fare rete fra di noi. Una cosa che ho apprezzato tantissimo ultimamente, il prefetto di Foggia ci ha convocati a tutti noi vescovi della Capitanata, i vescovi della provincia di Foggia, per siglare insieme il protocollo d'intesa in vista di un progetto educativo comune. Ecco, questi sono i segni e poi chiaramente devono avere il loro seguito in atti concreti, ma quello che noi possiamo, dobbiamo fare è dare delle risposte che non possono essere solamente risposte immediate e così passionali. Penso alle manifestazioni che si sono fatte, che si fanno, che bisogna fare, ci mancherebbe, bisogna farle certe cose, ma significa iniziare un processo di ripensamento del nostro essere nel territorio, del nostro essere in questa storia, di farci carico di questa nostra storia. Ecco, questo potrebbe essere la risposta alla rassegnazione stanca e addolorata di tanta gente. Perché io capisco, abbiamo provato, abbiamo riprovato, abbiamo riprovato, non ci siamo riusciti, vuol dire che non si può fare più niente. E allora che cosa faccio? Vado via o mi rinchiudo a casa mia e il mondo giri per conto suo fuori di casa mia, come vuole. Ma questa è una tentazione posta. Don Gianni è un processo che mi permetterei, parafrasando una tua dichiarazione, che dovrebbe iniziare togliendo dal vocabolario di questo processo appunto la parola ormai, perché tu hai detto che il termine ormai è un termine che ti inquieta, ecco, che è un sinonimo di disfatta, di rinuncia preventiva di fronte alle difficoltà. Ecco, il Papa, rivolgendosi ai giovani, ha detto non siate giovani da salotto. Io proverei un po' a traslare questa sua affermazione a tutta la società civile della gente di Capitanate. Insomma, non dobbiamo più essere, ecco, mi coinvolgo anche in prima persona, gente da salotto, ma gente che in qualche maniera si sporca le mani e non permette ad altri di decidere il proprio destino. Assolutamente sì, è proprio così. Nel libro cito una espressione che mi piace molto e che cito costantemente, che ho imparato quando ero parroco a Terracina. I pescatori di Terracina avevano questa espressione Chi sta al mare navica e chi sta al porto predica. Che significa? È facile predicare, dire agli altri che cosa debbono fare, stando al sicuro al porto, sulla banchina del porto. È più difficile mettersi in gioco quando sei lì in mezzo al mare, magari non riesci a rientrare al porto perché il mare è grosso. Allora, questo l'ho sempre colto come un invito ad essere un po' meno dispensatori di consigli a buon mercato e l'invito invece a mettersi in gioco lì dove è possibile mettersi in gioco. Che significa appunto, è facile dire quello che debbono fare gli altri. Allora, se lo dico agli altri, lo inizio a fare gli altri cosa. E quindi, ecco, questo è quello che senza più rispondere. Senti Don Gianni, ci abbiamo alla conclusione della nostra breve chiacchierata. Allora, alcuni dei protagonisti comunque del tuo libro sono i giovani. I giovani che a Sansevero, nella diocesi di Sansevero, ma direi ovviamente allargando lo sguardo a tutta la capitanata e volendo ancora essere più ampio a tutto il sud Italia, purtroppo sono i primi a finire nelle grinfie della malavita perché sappiamo la mancanza del lavoro, la mancanza di prospettive è un facile, come dire, è un motivo per cui ecco la malavita magari attira molto di più i ragazzi. Cosa bisogna fare per strapparli via da queste grinfie? Intanto bisogna ascoltarli, ascoltarli di più. Ho l'impressione che li ascoltiamo poco perché facciamo fatica evidentemente noi adulti e noi super adulti ancora di più perché loro sono cresciuti con criteri, parametri diversi rispetto ai nostri, sono tutti nativi digitali e questo li ha costruiti in maniera diversa. Ma questo non significa che non abbiano valori o che forse non abbiano delle ipotesi e delle idee che magari hanno bisogno di confronto. Però abbiamo bisogno di ascoltarli. I più danneggiati da questa tristissima esperienza della pandemia sono stati loro. Questa pandemia ha rubato loro degli anni e ciò che a noi, grazie a Dio, non è successo. E questo significa che dobbiamo farcene un po' carico di più nelle nostre parrocchie, nelle nostre strutture, nelle nostre associazioni, a livello culturale, ad ogni livello. C'è bisogno di rimboccarsi le maniche allora, Don Gianni. Proviamo a riassumere in una espressione quanto magari è contenuto nel libro che abbiamo visto inquadrato. Invito ancora una volta la regia a mandare in onda la copertina Omelia per gli invisibili. Ecco la storia di un vescovo dove cresce la quarta mafia. È l'ultimo lavoro, l'ultima fatica editoriale di Monsignor Giovanni Checchinato, vescovo di Sansevero, che io ringrazio per essere stato con noi in questa mattinata. e che speriamo di avere al più presto anche di persona qui a San Giovanni Rotondo per poter un po' approfondire queste belle tematiche contenute all'interno di questo testo. Grazie Don Gianni, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie a te Leonardo e grazie a tutti gli spettatori. Grazie a te Coronai. Grazie.